Del mare ha quasi le dimensioni, lungo come da Roma-Milano è il lago d'acqua dolce più profondo del mondo, con abissi che arrivano fino a oltre 1600 metri. Ma per i siberiani e per i russi in generale, per quelli almeno che non possono permettersi vacanze di lusso nei paradisi italiani o in altre parti del globo, il lago Baikal nella Siberia meridionale, quasi ai confini con la Mongolia, è luogo di vacanza predilante. Perché le sue acque sono trasparenti e chiare come i migliori mari, perché nelle sue spiagge d'estate è possibile fare il bagno senza congelarsi e perché lungo le sue coste foreste secolari inducono al trekking o al relax. Noi siamo arrivati nella tappa di Irkousk della ferrovia transiberiana all'Istvansk, un villaggio di poco più di 2000 anime che d'inverno è emerso nel ghiaccio, come il lago percorribile in auto fino ad aprile e che invece d'estate ospita oltre 5.000 turisti. Sono vacanze semplici che ricordano le riviere italiane degli anni Sessanta, basta poco, un po' di sole in spiaggia, una gita in traghetto verso il villaggio raggiungibile solo via acqua o via terra con un percorso di trekking, che si snoda tra foreste e costi a picco per 18 chilometri, oppure una passeggiata sul lungomare, magari dopo aver mangiato l'omul alla braccia, il pesce locale per eccellenza e gli spiedini di maiale o il riso mongolo acquistati al mercatino e consumati in uno di questi piccoli stand affittabili a poco più di un euro all'ora sulla spiaggia o su questa strada punteggiata da piccoli chioschi. Ma quanto costa una settimana per un turista medio qui a Baika? Per una settimana costa 25.000 rubles per la persona con la collezione. 300 euro. 25.000 rubles. Nel suo albergo o in generale? Tutto o in questo albergo? Questo è il più caro di tutti? Sì, è il più caro di tutti. Le attrattive locali non hanno la pretesa delle grandi località turistiche, ma il modo per trascorrere il tempo lo si trova. In questo museo, per esempio, con l'acquario che mostra la fauna ittica del Baikal, compresa questa buffa foca, o l'esposizione di statue in legno, opera di uno scoltore locale. La sera il silenzio è interrotto solo da qualche nota che arriva dalle case private o dai rari disco pub, dove ascoltare musica live. Ma si può fare il bagno? A potrelle coppare qui? Coppare qui? Coppare, ovviamente, si può, coppare, soprattutto per questo, i nostri ragazzi. Ma è consiglio, ovviamente, quando la acqua è già calzata, in augusti. Sì, i russi sono... Quanto i russi sono ubriacisi, tutti vanno fare i bagni qui. Sì, i russi sono...